Buongiorno! Sono Gloria Aura, mi presento! Mi piace il cappuccino con tanta schiuma, pedalare con il vento in faccia, ricaricarmi al sole e di lavoro faccio quello che più amo nella vita, cioè viaggiare e fare documentari. Giro per il mondo in caccia di nuove tendenze, curiosità, festival di cinema, arte, musica, ma mi piace anche la buona cucina e racconto tutto ciò con un nuovo post ogni giovedì. Quindi seguitemi e iscrivetevi ora sul mio canale Glocalist! Grazie a tutti!